La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro, pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Quando appare Gesù c'erano tutti tranne uno. Ma chi era sto sfortunato? Tommaso, lo conosci bene. Tommaso, allora, attenti bene, sarà stato sfortunato sto Tommaso? Pensate, erano in una casa, avevano paura di uscire perché? Perché avevano ucciso Gesù e avrebbero ucciso anche i suoi discepoli. Quindi tutti paurosi stavano in casa. Tommaso, proprio quel giorno lì, cosa decide? Di andare a comprarsi le sigarette di fuori. No, non è vero, non c'erano le sigarette, però è uscito di casa. Non sappiamo perché è uscito. Fatto sta che Gesù arriva, che non c'è Tommaso. Quando Tommaso ritorna, tutti gli dicono, abbiamo visto Gesù. Gesù. E Tommaso subito dice, cosa? Gesù è venuto qui? Gesù è morto. No, no, l'abbiamo visto, è venuto qui. Ci ha fatto vedere le sue ferite, è venuto qui. E Tommaso, poi cerchiamo di capire perché, dice, no, io non ci credo. Per me vi state inventando tutti, mi state prendendo in giro. Forse avrà pensato, ma perché Gesù è venuto proprio oggi e proprio in questo momento che io non c'ero? Ma ce l'ha con me? Forse avrà pensato questo. Perché io sono così sfortunato che tutti gli altri hanno visto Gesù, io no. Sentite, ma chi è Tommaso? Non siamo anche noi a casa? A volte mi viene qualche mamma e dice, mio marito non riesco a portarlo in chiesa. A parte che non devi costringere il marito a venire in chiesa, se no succede un macello. Ma se il marito fa una riflessione, non è un po' come Tommaso? Sì, perché magari la donna, la moglie, ha avuto un incontro anche con Gesù. Guardate, io ho ascoltato anche qualche genitore ieri sera e qualcuno mi ha detto, io questa comunione la sto vivendo bene perché mi pare di aver incontrato Gesù, ma forse in casa è apparso Gesù a questa donna o a questo uomo e magari la moglie o il marito non l'hanno visto, non l'hanno incontrato e allora dicono, ma te ti stai inventando, io non ho incontrato nessuno, cosa vai alla messa? Non siamo un po' così anche Sant'Ommaso che pur di giustificare il fatto che l'altro non può aver incontrato Gesù, dice, io a Gesù non ci credo. L'ateismo non nasce così? L'ateismo è la reazione, diceva Giovanni Paolo II, ad un'immagine distorta di Dio. Noi quando diventiamo atei è perché non abbiamo un'idea precisa di Dio e quindi non ci possiamo credere. Siamo un po' come Sant'Ommaso. Abbiate fiducia in chi l'ha incontrato. Questi bambini, guardate che io, Valerio anche prima ha detto quella bella parola, ho un po' invidia, mi ha toccato. Noi abbiamo un po' invidia perché voi siete toccati da Gesù, voi lo state incontrando. Guardate le cose che sono state dette in questi giorni, le cose che mi dicono, hanno delle intuizioni che mi parlano di Gesù e io dico, ma loro sono toccati da Gesù. Siamo noi grandi che siamo come Sant'Ommaso, che non ci crediamo finché non mettiamo il naso, siamo razionalisti, non riusciamo più a credere in Dio. È una cosa seria questa, se non crediamo più in Dio, crederemo nelle bazzanate. Diceva Dostoevsky, se non ci inchiniamo di fronte a Dio, ci inchineremo di fronte agli uomini, non solo, ma anche di fronte agli idoli. Ci inchineremo di fronte ai giochi d'azzardo, a dove si fanno i soldi facili, a tutti gli idoli di questo mondo, a internet, al potere di questo mondo. Solo Dio ci salva, il Dio vero, il Dio amore, il Dio misericordia. Quindi, credere in Dio, credere in Dio. Arriva Gesù la domenica dopo. Perché Gesù va a cercarlo San Tommaso. È un tempo che Tommaso faceva così, ma poi lo va a cercare. E la domenica dopo, otto giorni dopo, cosa succede? Arriva Gesù, sta in mezzo, si mette in mezzo qui, facciamo conto che questo è il Cenacolo, si mette in mezzo, o la prima cosa che fa, Tommaso, Tommaso, va a cercare Tommaso. Vieni qui? Ma perché non hai creduto? Perché non hai creduto. Hai passato tutta una vita a non credere in Dio? Ma scherziamo? Ma guardate che senza Dio le famiglie non funzionano, eh? Senza Dio è un disastro in casa. Hai passato tutto questo tempo senza credere in Dio. Vieni qua, dai. Hai bisogno di toccare? Tocca. Tocca le ferite. Tocca il costato. Gli fa toccare tutto. E Tommaso arriva a dire bellissime. Queste parole, guarda, bastano queste parole a sera prima di addormentarsi. Mio Signore e mio Dio. Mio Signore e mio Dio. Preghiamo Dio. Credere in Dio dà il senso alla nostra vita. Pregare in Dio è una forza. Aiutate questi bambini a pregare. Qualcuno dice? Io non trovo il tempo di pregare. Allora, la sera si mette a letto il bambino, si fa un segno di croce e si dice, l'angelo ti sta custodendo. Guarda, adesso vado alla finestra, hai paura del buio? Sapete che abbiamo paura del buio? Noi grandi facciamo finta di niente, ma abbiamo paura tutti del buio. Si va alla finestra e si dice, guarda qui chi c'è? Qua c'è l'angelo di Dio, l'angelo custode, che vi custodisce. Non abbiate paura. E i bambini vengono rassicurati dalla fede della mamma. Quella è già una preghiera che vale più di cento rosari in chiesa. Basta dire così. Basta dire, la Madonna ti sta vicino, non ti preoccupare, Gesù è buono. Non prendere paura. Concludo, un bambino al campeggio, quando vengono al campeggio, anzi questo è uno spot pubblicitario per il campeggio. Quando vengono al campeggio, che il sole su Sant'Agata inizia piano piano a scendere, allora i bambini iniziano un po' a tremare. E c'era un bambino molto sensibile, che era un discolo che mai mi faceva arrabbiare un sacco. L'unico bambino che ho dovuto portare a pronto soccorso in tanti anni, perché era sempre spericolato, insomma. Oh, ma quando? No, non lo conosce, non si dice il nome. Quando arrivava la sera, prima giocava tutto spericolato, poi piano piano mi si avvicinava, piano piano, perché io iniziavo a capirlo. Piano piano, piano piano, piano piano, mi si metteva sempre vicino. Dove andavo io, si metteva lui. Rimaneva incollato, non diceva niente. Ogni tanto lo trovavo con qualche lacrima. Quando poi lo portavo a letto, allora si metteva sul letto, dovevamo fare i turni con gli animatori, perché non potevo sempre stare io lì, con gli educatori più grandi, dovevamo stare lì perché non se la faceva ad addormentarsi. Aveva paura del buio. Allora cosa è successo? Che un giorno, sempre nel campeggio, una mattina è venuto da me e mi ha detto, Don Franco, ti devo dire una cosa. Ma cosa mi devi dire? Cosa è successo? Ho visto che era tutto contento, tutto sereno. Questa notte, eravamo verso il quinto giorno di campeggio, quattro giorni di campeggio senza dormire. Questa notte, sai che ho fatto una cosa? Mentre ero lì che non uscivo a prendere sonno perché avevo paura e piangevo, mi sono ricordato di dire una preghiera. Questo bambino ha detto una preghiera a Gesù, gli ha chiesto a lui l'aiuto di vincere la paura e Gesù l'ha fatto addormentare subito. E lui era così contento di questa esperienza spirituale che me l'è venuta a raccontare. Ma funziona davvero così, eh? Gesù ci viene ad aiutare. Quindi ricordatevi sempre di Gesù, mi raccomando, eh? Gesù è l'unico, vi conosce meglio del papà e della mamma. Meglio, si conosce meglio di noi stessi. È l'unico a cui dovete chiedere aiuto. Gesù. Grazie a tutti.